Le donne occupate nella pubblica amministrazione italiana sono più di 2 milioni e rappresentano il 58,9% dei dipendenti in servizio, con una netta prevalenza nel settore della scuola e del sistema sanitario nazionale. Se analizziamo la presenza femminile nelle posizioni apicali, lo scenario cambia. Nel 2020 le donne che occupano la posizione di vertice istituzionale sono il 15,7%, in lenta crescita rispetto al 2015 e al 2017, quando erano il 14,4%. Negli altri organi di governo, deliberativi e esecutivi, la presenza è un po' più elevata, ma sempre contenuta, siamo intorno al 30%. Maggiormente diffusa la presenza femminile nei vertici amministrativi delle istituzioni, dove arriva al 42,6%. Se prendiamo il caso dei comuni, i sindaci donna sono il 15,3% in linea con il dato medio, mentre nei comuni con una popolazione tra i 5.000 e i 20.000 abitanti la presenza femminile sale al 38,4% dei consigli, al 41% nelle giunte e al 50,7% al vertice amministrativo. La minore presenza femminile negli organi di governo si rileva negli enti regionali e nelle università per quanto riguarda la figura di vertice amministrativo.